Vado alla postazione degli ospiti dove c'è di solito l'esibizione dell'artista musicale della nostra trasmissione. Stasera con noi abbiamo il piacere di avere Mario Maglione. Grazie a tutti. A proposito dello strumento, io vorrei che fosse inquadrato perché io l'avevo preso per uno scherzo, invece questa è una chitarra che... Ha visto i tempi che corrono con la chitarra? È un po' ristretta. No, ma è bellissima. È uno strumento nuovo, so che l'hai comprato in Giappone. Sì, però si vende già da tantissimi anni in tutto il mondo. Sono gli strumenti della Yamaha che si chiamano silent perché sono silenziosi e così però sono poi elettroni. E poi dopo si... Però è una chitarra a tutti gli effetti. Bene, allora intanto io vi ringrazio, mi è fatto piacere di vederti qui sempre. Devo dire che c'è una bella atmosfera, mi piace. Bella, serena e simbatico. Che sono le trasmissioni, che sono tutte un cazzucco. No! No! No, è qua è vietato. Ah, che meraviglia. No, no, qui è proprio vietato. È vietato, eh? Assolutamente. Mario, ma veniamo alla tua arte. È inutile dire tutte le tue tournee perché io ti seguo sempre, non fisicamente ma attraverso... Che sono un cantante emigrante. Esatto, esatto. Mario Maglione con la sua voce, con la sua chitarra per la canzone classica napoletana fa veramente tanto per reggerla ancora perché ce n'è bisogno, è vero Mario? Ormai siamo rimasti due o tre superstiti quanto riguarda il classico, però è anche giusto che ci siano perché questa è una tradizione, bisogna assolutamente cercarla di tenerla a certi livelli. È difficile, molto difficile, è molto più semplice cantare delle canzoni nuove, cantare con gruppi, diventa tutto più sicuro. Però io da tanti anni, ormai ne sono veramente tanti, sono circa, diciamo, circa 40 che quando ho deciso di fare questo lavoro ho sempre solo fatto il classico, anche se farò un'eccezione questa sera, che ho voluto fare un omaggio a un grande artista attualissimo che io stimo tantissimo, napoletano, napoletanissimo chiaramente, che è Pino Daniele, ma ne parliamo dopo. Ne parliamo bene, allora se ci fai ascoltare un brano e poi dopo un altro. Perfetto, allora cominciamo subito, vedete che questa canzone ha un po' di tempo, altro oltre a usurdata l'ammorata, se non sbaglio, io il Napoli lo seguo, non vedo sempre la partita perché a volte non mi trovo in Italia, sto fuori oppure mi chiedo di fare altre cose, però se mi mette là e ascolto almeno all'inizio con la radio e vedo che qualche volta anche questo pezzo è passato perché è un titolo straordinario, Napolet, è Napolet, è un classico, è un classico. Io ho voluto fare questo omaggio a Pino e io ho fatto in una maniera classicheggiante, come io ho sempre definito una grande canzone napoletana, tutte le prime canzoni di Pino Daniele sono la continuazione della grande tradizione moderna, perciò l'ho voluto fare un modo bene. E quindi l'ascolteremo adesso. Napoletana, bella altanta eh! Quale sia una vita. Grazie a tutti. Napoletana, bella altanta eh! Grazie a tutti. N'avole mille paure N'avole la voce di creatura Che sai che è l'unica E tu sai che non ci siamo N'avole un solo amare N'avole una d'ore e mar N'avole una garta sport E' vissuta sana forte E' un'una aspetta certa N'avole una gamba nata In te vi che mi è salato N'avole tutt'uno suono E' un'una aspetta tutt'uno Ma non c'ha una verità N'avole una gamba nata N'avole una gamba nata N'avole una gamba nata N'avole una gamba nata E nessuno si rafforterà Aburre l'agamma nà De l'ingezza l'alma Aburre tutto il suo Aburre mille buoni Aburre l'usola ma E nessuno si rafforterà Aburre l'agamma nà è sempre un'atmosfera magica penso te lo porta tranquillamente ci sono molti colori con delle note l'arrangiamento se mi posso permettere è fantastico è un arrangiamento di Pino Tafuto è veramente incredibile ci sono le charamelle addirittura dentro c'è Napoli in una versione un new age napoletano una musica molto new age mantenendo sempre quello che è il colore napoletano complimenti alla sua voce a chi ha arrangiato il presidente poi è un intenditore grazie allora la di Napoli io vorrei che tu restassi ancora un po' con noi così dopo ci fai ascoltare un altro brano perché la tua presenza qua stasera insieme a quella di Massimo è veramente eccezionale tutto il tempo con noi ti lascio qua veramente che bella immagine Mario Maglione grazie a tutti grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille